SICANIA WEST COUNTRY 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 E allora, a uno a uno vi vogliamo conoscere, tu chi sei? Sebastiano Tacabuttoni Tatanka Tatanka, un applauso! La mascotta, la mascotta, la mascotta del gruppo Ah, ecco, lui per ultimo, tu chi sei? Daniela Daniela, poi abbiamo? Emanuela Emanuela Luca Laura Un applauso! E poi? C'è lui, tu chi sei? Francesco Francesco, quant'anni c'hai tu, Francesco? Quattro Quarantaquattro, come gatti? No No, solo quattro E poi c'è l'insegnante, Tiziana Nastasi Un applauso! Bravissimo! Allora, volevamo sapere dovevi la scuola di danza, da quanto tempo ballate, parlaci un po' di questo gruppo, tieni! Buonasera a tutti innanzitutto, grazie per gli applausi, noi siamo la Sicania West, una scuola di ballo che è nata da pochi mesi come scuola, ma noi balliamo qui nel territorio di Catania da ormai sei anni, cioè più o meno da quanto è nata la country dance qui a Catania e provincia ovviamente, perché l'Italia esiste da una quindicina d'anni, va forte, è una disciplina che va sempre più di moda, quindi vi aspettiamo a tutte le scuole. Io vi devo fare una domandina, che emozione avete provato in Italia's Got Talent? Ti hanno risposto loro, è stata una bellissima esperienza, è stata emozionante stare di fronte ai tre giudici e soprattutto è stato bellissimo avere il sì anche di quel famoso terzo giudice che per dare il sì ci mette un po'. Noi abbiamo avuto il consenso di tutti i tre giudici, stiamo andando avanti e poi ovviamente la nostra esperienza si è conclusa là, ma siamo contentissimi. Esatto, visto che abbiamo il piccolo Francesco, che lui è il più piccolo cowboy siciliano, volevamo fare una cosa insieme a voi, lui fa sentire come l'urlo dei cowboy, però poi lo fate anche voi, giusto? Senza detutermelo. Allora, Francesco, fai sentire... La mascotta. La nostra mascottina, fai sentire a Daci Sant'Antonio, qual è l'urlo del cowboy. Ipa! Un applauso! E non va bene, eh? Ora lo fate voi però, al mio tre, mi raccomando, uno, due, tre... Ipa! Ci siamo, grazie. Ho sentito sulla mia destra vibrare i miei timpani, sulla mia sinistra, scusate. Va bene, allora l'agenzia, da una targa di ricordo come giusto che sia, penso la presidente sia bene, giusto? Allora, la presidente, leggiamolo, lega lei. Allora, Miss, agenzia stella dei venti, di SAF, Miss, Aci Sant'Antonio, seconda edizione, grati per la partecipazione, offerta, consigliere provinciale, Enzo D'Agata, Aci Sant'Antonio, 8-9-2012. Un altro applauso! Un applauso! Targa, meritatissima! Questa è da vendere in ufficio! Un altro applauso! 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 Grazie a tutti.